ce la possiamo far dio perché non ha colpito vai così vita finito il livello grazie a diga ok prossimo livello con temper finds vediamo che livello è mio dio serpente sono qui tutto bene ma va a cadare no checkpoint fino a qui tutto bene ragno oddio animale in peggio dio aspetta ma va a cantare va a cagare ok 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 oh la la mio dio c'è il checkpoint lì veloce è grazie a dio fischia oh sono stato zitto per fare fare sto pezzo che non riuscivo che stavo morendo protezione madonna vai o o vediamo queste piattaforme cadono quindi attento checkpoint vai occhio qua eh che cadono Oddio 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 ma perché Cioè ha fatto tutto bene fino adesso O no? Crepa Muore fischia Ma perché non salta? Perché? Calma figa Devi essere calma oddio Ma vaffanculo Dai porco cane Dai ma non è possibile Salta 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 e salta Questo qua Le casse non le rompo Perché portano sfiga Vai Oh grazie a Dio Ho finito il livello Grazie a Dio Prossimo livello con Road to now Oddio cos'è qua L'Himalaya Attenzione Sì questo qua mi devo ricordare che si rompono Ecco Tastico di me Buu buu C'è qua Prima bionda Oddio c'è qua il porcellino No 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 Mi spaventi te oh Dio Dio O seconda bionda O seconda bionda Wai Oddio Oh Checkpoint Oh Ma dai Ma dai Ma dai Oddio Oddio U A E I O U A E A E I O E U E cosa U E I O U Ma va a cantare A E I U Occhio Ma dai Madonna Ma dai Ma dai Ma dai 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 Tutto di fretta Tutto di fretta Vai Cominciamo forse Ma dai Ma dai I 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 Ma perché è proprio l'ultimo? Ok Ok ragazzi ci vediamo Al prossimo episodio Grazie a tutti